Il Consiglio regionale esprime apprezzamento per l'attività del 2022 del garante dei detenuti, la risoluzione approvata a maggioranza con 26 voti a favore e 12 voti contrari. Regione, il Consiglio approva a maggioranza la seconda variazione del bilancio 2023-2025, approvati anche gli interventi normativi collegati. Il Consiglio regionale della Toscana esprime apprezzamento per l'attività svolta nel 2022 dal garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'Aula approva a maggioranza la risoluzione presentata su proposta della Commissione Affare Istituzionale illustrata in Aula dal suo Presidente Giacomo Bugliani, con 26 voti a favore e 12 voti contrari. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione annuale del garante per i detenuti attraverso una risoluzione che esprime apprezzamento per l'operato del garante svolto appunto nello scorso anno. Si tratta di una relazione che dà conto di molti aspetti della popolazione carceraria, a cominciare dai numeri delle carceri toscane, dal decremento di popolazione carceraria in Toscana a fronte di un aumento a livello nazionale, c'è una disamina dei singoli istituti penitenziari, si registra un significativo aumento del ricorso dell'Istituto della Messa alla prova e si pone l'attenzione ad alcuni aspetti, come ad esempio la tutela della salute negli istituti di pena della nostra Regione, il tema delle REMS di Volterra e di Empoli o ancora delle carceri minorili di Pontremoli e di Firenze. Una disamina, quella del garante dei detenuti, che tiene conto anche di una serie di impegni che il garante stesso ha assunto, come ad esempio lo sviluppo di un convegno e di una ricerca dedicata al lavoro nelle carceri e soprattutto anche al lavoro delle persone che sono in uscita dal carcere, proseguendo anche quella serie di incontri che il garante sta svolgendo insieme alla Prima Commissione presso tutti gli istituti carcerari toscani. L'ultimo che è stato visitato dalla Prima Commissione assieme al garante è stato il carcere di Volterra. Una relazione dettagliata che ha portato il garante a svolgere una funzione, un'attività che noi come Prima Commissione stiamo seguendo nei dettagli. Io in primis, quando da Presidente Commissione di Sanità, ho dato vita a un'attività molto incessante nelle carceri toscane per cercare di ripristinare le condizioni di salute e non solo di igiene sanitaria e anche per migliorare la condizione di vita dei detenuti nel rispetto delle normative nazionali. La Toscana può fare molto una qualità, di una società si vive e si vede anche dalla qualità delle proprie carceri e come questo noi ci impegniamo, sosteniamo l'attività della funzione di garanzia che pone il Consiglio regionale al centro di una di quelle attività similari che vengono poi svolte con il difensore civico. Abbiamo chiesto che ci fosse maggiore integrazione anche con le funzioni svolte dal difensore civico perché siamo coloro che hanno proposto una revisione degli organismi di garanzia che pongono il difensore civico anche al di sopra di ogni altra funzione di garanzia e anche come attività di coordinamento di quella dei garanti e dei detenuti ma anche quella dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche quest'anno abbiamo espresso il nostro voto di contrarietà alla proposta di risoluzione relativa all'attività svolta dal garante soprattutto sulla base della concezione di pena che ci differenzia. Noi abbiamo una concezione più ampia di quella del garante non solo una concezione preventiva che del resto è attuativa della Costituzione le pene non possono che tendere alla rieducazione di chi ha sbagliato ma anche una concezione retributiva chi sbaglia deve pagare. Questo è un principio che in questo Paese non sempre trova dovuta applicazione così come noi guardiamo con interesse e gradiremo venisse fatta anche dal garante che è una figura principalmente destinata ai detenuti ma anche all'altra metà del mondo carcerario le guardie carcerarie le cui condizioni sono oggetto di nostra attenzione da tanto tanto tempo. Siamo preoccupati perché malgrado vi sia meno sovraffollamento chiamiamolo formale le condizioni nelle celle per i detenuti sono spese al limite della dignità umana abbiamo letto pagine che ci hanno inquietato e abbiamo anche vissuto da vicino l'esperienza del carcere di Sollicciano e poi due percentuali su tutte la prima indubbiamente è quella della popolazione carceraria straniera in Toscana il 46,5 rispetto al 31 della media nazionale e ci domandiamo se tutto ciò non sia frutto anche di una cultura relativista buonista, ideologista della sinistra e la popolazione carceraria con problemi di droga il 25% Sicuramente in quella relazione ci sono dei buoni spunti alcuni dei quali sono assolutamente condivisi anche dal gruppo di Fratelli d'Italia ma noi riteniamo che sia una relazione incompleta che non affronta tutti gli aspetti che dovrebbe affrontare un garante dei detenuti a livello regionale a partire dal grande tema delle REMS ovvero le strutture alternative al carcere dove dovrebbero scontare la pena le persone con malattie psichiatriche è bene sapere che in Toscana ci sono 70 persone in lista d'attesa ovvero 70 persone che dovrebbero scontare la pena non in carcere ma in una struttura protetta quale appunto le REMS che invece non possono farlo perché le REMS non hanno posti a sufficienza su questo la regione Toscana è in ritardo è bene dirlo l'unica struttura a ciò adibita si trova a Volterra è una struttura provvisore dal 2015 il che significa che da 8 anni siamo in una situazione di provvisorietà tutti gli addetti ai lavori tutti gli operatori che dovrebbero svolgere la propria attività nella REMS di Volterra si dicono essere il luogo non idoneo per poter svolgere quel tipo di funzione rispetto a questo la regione Toscana continua da 8 anni a non dare risposte 70 persone aspettano un posto nella REMS e le REMS non sono in grado in Toscana di poter ricevere tutte le persone che lì dovrebbero scontare la loro pena così come l'altro grande tema che non viene trattato in maniera adeguata è il fatto che il 60% dei detenuti nelle carceri Toscana sono detenuti stranieri su questo finalmente c'è un governo a livello nazionale che si sta impegnando perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena nel proprio stato d'origine Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e gli interventi normativi collegati gli atti passano a maggioranza con il voto contrario dei gruppi di opposizione presenti al voto nella seconda variazione è stato approvato un emendamento all'articolo 2 del testo normativo presentato dal presidente Eugenio Gianni che sposta un milione di euro circa dal capitolo beni culturali agli interventi per lo sport Una variazione di bilancio che si inserisce in un contesto di programmazione strategica della regione per dare risposte soprattutto a due temi il tema delle bonifiche sia per quanto riguarda l'anticipazione dei risorsi che la regione deve mettere per provvedere altrimenti le bonifiche vanno troppo a rilento se solo con risorse di chi è stato responsabile di quegli atti a partire dal che e conseguentemente la regione mette 10 milioni circa per poter procedere a bonificare salvo poi rivalersi su chi ne è responsabile e poi sull'area di massa perché a Carrara massa vi sono le necessità di bonifiche che possono consentire nuovi interventi industriali Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla regione toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429 quella interessata dall'inchiesta del CEU quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della regione così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massacarrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesib dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al teatro Manzoni di Pistoia Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023 non ci sono aumenti di tasse ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato le difficoltà a inizio anno erano notevoli tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFRE e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo ci sono due criticità enormi a mio modo di vedere che è la prima il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in regione toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in Toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo e questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono dati da Banca Italia non da Fratelli Italia ci mancherebbe altro ci dicono che la regione toscana è la regione che a fronte di un'Italia che torna a crescere che torna competitiva che è il paese che più cresce in Europa la Toscana è la regione italiana che cresce meno è l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i quattro punti di PIL persi con la pandemia tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019 la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale documento economico e finanziario di questa giunta una pagina e mezzo dedicata turismo e commercio non c'è una parola una spesa per il turismo congressuale sicuramente vi inizierei la parte delle partecipate c'è un DEF che non tocca il tema di Toscana strada è un tema molto dibattuto negli ultimi mesi che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di consiglio regionale non è ancora chiaro la finalità e la fine che farà FI di Toscana perché la regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di Sici però ci risulta che ci sia un'altra regione che partecipe delle quote che è la regione Umbria che non sia in questo momento intenzionata a vendere non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate della progettazione del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza una variazione di bilancio di 40 milioni di euro considerando che il bilancio complessivo della regione sui 13 miliardi naturalmente non poteva essere qualcosa di rilevante in questo caso come in altri si tratta di una semplice spartizione di risorse in alcuni casi anche non particolarmente eclatanti per i vari comuni e soprattutto in iniziative che tra di loro non sono collegate e danno chiaramente l'idea di come la regione toscana più volte l'abbiamo denunciato non abbia una visione per il futuro che non vada al di là delle tornate elettorali anche dei comuni su cui dare contributi non abbia appunto visione non abbia una programmazione non abbia monitoraggio di quello che è l'impiego delle risorse il problema più grande che stanno affrontando le famiglie adesso è il caro mutui il caro affitti tutte le questioni che riguardano l'energia l'aumento dei prezzi e l'inflazione la regione toscana sia per le famiglie che per le imprese non sta prevedendo niente è una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati da due anni e mezzo uno schema che vede interventi totalmente disomogene uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali cosa che non contestiamo tanto nel merito perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni soprattutto di questi tempi e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali Grazie a tutti